Consigliere Revolzoni, secondo lei i Lombardi sono abbastanza informati oppure no? I Lombardi sono informati perché Lombardo di suo è un popolo che comunque si informa. Il dato però brutale è che un servizio come quello della RAI, un servizio pubblico pagato dai Lombardi non cita minimamente l'esistenza e il fatto che ci sia un referendum in questa regione. Quindi le sedi territoriali della RAI come questa di Milano che dovrebbe fare informazioni anche a livello regionale, evidentemente sono schiavo di questo governo della sinistra che mette il bavaglio anche all'informazione pubblica. Quindi secondo lei come bisognerebbe rispondere a questo? Bisognerebbe rispondere, purtroppo ormai il canone RAI viene pagato in automatico perché il buon Renzi ha pensato bene di abbinarlo alle bollette dell'energia elettrica e quindi anche il povero pensionato è costretto a pagarla. Andrebbe rispondere evidentemente facendo un bel esame di valutazione per quanto riguarda la televisione pubblica che oggi in Italia non ha più senso di esistere perché non fa il suo dovere. Andrebbe privatizzato secondo lei? Privatizzato, andrebbe eliminato il contributo che ogni cittadino Lombardo versa e quindi probabilmente si lavorerebbe un po' più sulla qualità e sull'informazione, cosa che oggi non viene fatta.